Bene ragazzi ci siamo, oggi andiamo a vedere come guadagnare 50 dollari in modo completamente gratuito grazie a questo video tutorial qui. Quindi seguite il video fino alla fine se volete ottenere questi soldi completamente gratis. Mi raccomando raga, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se volete poi rimanere aggiornati su altri video tutorial come questi che ti permettono di guadagnare soldi, criptomonete in modo completamente gratuito senza investire denaro. Quindi andiamo a vedere come funziona questo nuovo metro. Ed eccoci qui ragazzi, oggi andremo a guadagnare ben 50 dollari in modo completamente gratuito. Basta guardare questo video tutorial qui. Quindi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno praticamente di questo sito qua chiamato coinmarketcap.com Ok, al suo interno ci sono veramente un sacco di metodi per guadagnare criptomonete gratis quindi andremo a guadagnare soldi effettivamente. Quindi abbiamo bisogno del coinmarketcap, abbiamo bisogno di Binance che è un exchange molto famoso ragazzi, dove poter depositare poi i nostri soldi guadagnati con il coinmarketcap, le nostre cripto. Le andremo a depositare in questo exchange qui. Dopodiché avremo bisogno anche di metamask che è un'estensione dove anche qui possiamo andare a mettere le nostre criptomonete. È praticamente un wallet online. Quindi non perdiamo altro tempo. Come facciamo a guadagnare 50 dollari in modo completamente gratuito con il coinmarketcap. Vi raccomando ragazzi seguito il video fino alla fine per poter guadagnare. Quindi prima di tutto andiamo in coinmarketcap. Ci andiamo a registrare ragazzi, ok? Una volta che vi siete registrati andate su prodotto, andate su learn and earn. Praticamente andremo a guadagnare criptomonete in modo completamente gratuito. Attualmente in live ci sono praticamente queste due criptomonete da andare a guadagnare in modo completamente gratuito. La prima è chiamata Tron, è molto famosa. Se vai a compilare questo questionario qua e rispondi correttamente a tutte le domande, ok? Quindi learn crypto, earn crypto. Praticamente facciamo la traduzione in italiano, impara che cosa sono le criptovalute, guadagna criptovalute, ok ragazzi? Quindi ci ricompensa se andiamo a guardare dei video riguardanti le criptovalute, ci insegna che cosa sono queste criptovalute qui. Dopodiché ci sarà un test finale, un quiz, dove se noi andiamo a rispondere correttamente a tutte le domande, andremo ad ottenere la criptomonete in modo completamente gratuito. Quindi se volete seguire il video fino alla fine, vi faccio vedere come rispondere correttamente ovviamente a tutte le domande. Ma non di Tron, 25 dollari, si vanno a guadagnare compilando questo quiz, ma andremo a guadagnare 50 dollari perché attualmente è in live questa campagna con quest'altra criptomoneta qui. Quindi basterà andare a premere su Earn BNB Chain. Potete fare sempre poi la traduzione in italiano se usate Chrome. E qua ragazzi come vedete la campagna è aperta per 3 giorni, ok? Allo scadere di questo tempo qua la campagna verrà chiusa. Quindi non perdiamo altro tempo, adesso andiamo a guadagnare questa criptomoneta qua andando ad imparare che cos'è questa cripto e andando poi a rispondere al quiz finale. Non vi preoccupate perché vi darò tutte le risposte corrette. Quindi basterà premere su Jet Started che porterà alla prima lezione. Quindi andiamo a premere su Learn More, ok? Praticamente qua ragazzi dovremo noi poi leggere e andare ad effettuare il quiz finale con tutte queste lezioni qua. Praticamente andremo a guardare dei video che ci insegnano che cos'è questa criptomoneta qua. Dopodiché una volta che abbiamo effettuato tutte le lezioni, quindi abbiamo imparato a modo che cosa serve questa criptomoneta qua e che cos'è, basterà andare a premere su Take the Quiz. Anche qua come sempre potete fare la traduzione in italiano, ok? Gli utenti CoinMarketCap possono imparare che cos'è la criptomoneta e fare un breve quiz per essere premiati. I token premio della campagna Learn and Earn della cripto saranno distribuiti casualmente tra gli utenti che hanno un account Binance. Quindi ragazzi dovete poi anche registrarvi e avere un account Binance. Quindi per ricevere la cripto dovete completare il quiz prima della conclusione della campagna. Il monte premi per questa criptomoneta qua è di 252.000 dollari in token e ci saranno 180.000 di premi aggiuntivi su Project Galaxy. Quindi andiamo in fondo alla pagina e andiamo ad iniziare il nostro quiz. Andiamo ad accettare ovviamente le condizioni. Fornisci l'indirizzo email associato al tuo CoinMarketCap, quindi la stessa email che abbiamo utilizzato per registrarci a CoinMarketCap. Qua come leggete ragazzi per ricevere poi questa cripto guadagnata in modo completamente gratuito dal valore di 50 dollari dobbiamo fornire il nostro ID utente di Binance per ricevere poi la criptomoneta nell'exchange. Quindi andiamo su Binance, andiamo nella dashboard una volta che vi siete registrati e qua ragazzi avrete il vostro user ID. Lo andate a copiare, ok? Praticamente è un codice di numeri e lo andate ad incollare qui. Prossimo. Ok, adesso qui ragazzi fate molta attenzione perché iniziano le domande, ok? Non starò qui praticamente a spiegarvi segno per segno a parole che cos'è questa criptomoneta qua. Vi faccio vedere solo le risposte corrette, quindi sarà molto veloce. Quindi per questa domanda ragazzi, che ci ha fatto? Qua sotto ci saranno le risposte e la risposta è questa qui. Come vedete cambia pagina automaticamente. Per questa domanda qua ragazzi, la risposta corretta è questa qui. Mi raccomando ragazzi seguite il video attentamente oppure lo potete anche riseguire. Andate nella pagina, seguite questo video tutorial per capire quali sono le risposte corrette e non sbagliare e guadagnare alla fine 50 dollari in cripto. Per questa domanda qua ragazzi, la risposta corretta è questa qui. Per questa domanda qua ragazzi, la risposta corretta è questa qui. Adesso vi farò vedere solo le risposte corrette, non parlerò neanche. Procediamo. Questa qua che vedete non è un'altra domanda. Una domanda ragazzi ci dice solo che dobbiamo andare a seguire Second Live nel social del CoinMarketCap quindi andiamo a seguire il suo profilo e andiamo qua a premere su Yes I have followed and left a comment quindi andiamo a premere sopra, si aprirà una nuova pagina, ci porterà nel profilo basterà andare a seguire questo profilo qua e andare qua in qualsiasi post a commentare in inglese come vedete altre persone hanno commentato, va bene anche Good e andiamo a premere su Repli una volta fatto ragazzi andiamo a premere sulla prima risposta Yes I have followed and left a comment ritorniamo poi alle domande la risposta corretta è questa qui ancora una volta qua ragazzi questa qui non è una domanda ci chiede di andare a seguire questi due profili sempre nel CoinMarketCap quindi li andiamo a seguire e andiamo a commentare un post quindi cominciamo con Top Goal andiamo a seguire andiamo a commentare il post stessa cosa con Top Manager andiamo a seguire e andiamo a commentare il post una volta fatto basta premere su Yes I have followed and left a comment ritorniamo alle domande e alle risposte la risposta corretta per questa domanda qua è questa ancora una volta ancora una volta andiamo a seguire questo profilo del CoinMarketCap andiamo a commentare nel quiz andiamo a premere su Yes I have followed and left a comment ritorniamo alle domande e alle risposte del quiz la risposta corretta è questa qui questa qui ragazzi è l'ultima domanda e la risposta corretta è questa qui scusate ragazzi ma è questa qui l'ultima domanda di quel che ricordo la risposta corretta è questa qui order book come vedete e come vi ho detto dall'inizio lui ci chiede un indirizzo BNB Chain BIP20 allora o lo prendete da Binance ragazzi ok oppure basterà installare l'estensione di Metamask ok andare ad aggiungere la Binance Smart Chain quindi andrete ad aggiungirete andrete a ricercare un tutorial che vi farà aggiungere i vari codici della Binance Smart Chain una volta fatto andate a selezionare e andate a copiare il vostro indirizzo del vostro account copia e lo andate ad incollare qua incolla quindi premiamo su next con questa domanda andiamo a premere su Yes I have completed anche questa qui ragazzi non è una domanda ci chiede di andare a seguire l'account Binance Chain e andare a commentare un post una volta fatto andate a premere su Yes I followed and left a comment e andate a premere su Submit qui ragazzi vi porterà in fondo alla pagina andate a premere su Non sono un robot Submit form una volta completato il quiz ragazzi riceveremo addirittura l'email del CoinMarketCap il token che abbiamo guadagnato prima come leggete il premio sarà distribuito entro 30 giorni dalla conclusione della campagna la campagna adesso è in live una volta che la campagna è stata chiusa entro i 30 giorni riceveremo la cripto guadagnata in modo completamente gratuito quindi 50 dollari guadagnati in modo gratuito se volete rimanere aggiornati ragazzi su come guadagnare 25 dollari di Tron ok farò il video il più veloce possibile perché anche questa campagna scade tra 19 giorni ok ragazzi quindi avrete tutti quanti tempo seguitemi iscrivetevi al canale attivate la campanellina così riceverete anche questo video qua importante su come guadagnare Tron ben 25 dollari senza dover investire niente e Tron è una delle monete più importanti che esistono nel mondo cripto quindi ragazzi non è una moneta da sottovalutare bene per il video è tutto mi raccomando raga lasciate un bel like per sostenere questo canale di YouTube ciao da FELIX